Un'esperienza da raccontare, qualche palleggio con il Kaiser Mattei Kazischi sul Monte Bondone. Succede al Big Camp di Trentino Volley, dove ha appena preso il via il quinto e penultimo turno di questa estate 2019. Sui campi di Green, Beach e Indoor, ma anche nella Sala Pesi e nell'area Wellness a loro riservata, si alternano in questa dodicesima edizione della scuola estiva di pallavolo organizzata da Trentino Volley, ben 750 ragazzi arrivano da tutta Italia, ma anche dall'estero. Incredibile, ogni anno aumentiamo i numeri, evidentemente i ragazzi si trovano bene, portano i loro amici, i loro parenti, è veramente una cosa molto molto importante questa. I ragazzi socializzano, giocano a pallavolo, si conoscono, riscoprono i giochi che magari a casa non fanno, le carte, giocano a ping pong, lasciano il cellulare e seguono quelle regole che poi sono lo stile Trentino Volley, l'ordine disciplina. Sono 35 gli allenatori al servizio di Dario Sanna, 16 per ogni turno di camp. Tra di loro anche alcuni giocatori come lo schiacciatore Trentino Mirko Cristofaletti, che si prepara per una nuova stagione in A3 con la maglia del Sandonà, allenando le giovani leve del beach. Fino a 8 anni fa, 8-10 anni fa ero dall'altra parte, quindi ero un atleta che veniva al big camp per divertirsi e passare qualche settimana qui con gli amici e adesso invece sono passato dall'altra parte, quindi faccio io la parte dell'allenatore, del coach e dell'organizzazione di questo camp. L'entusiasmo è palpabile, lei è da Ele, la super big player della scorsa edizione e tornata anche quest'anno per imparare ancora di più. Io sono partita con un obiettivo, anche quando sono venuta qui, quello di cercare di arrivare in una categoria comunque alta e con questo camp diciamo che sono migliorata un sacco. Da Livorno all'aspirante palleggiatore Pietro. Vedevo anche alcuni miei amici della zona, anche loro sono venuti qua, me ne hanno parlato bene, poi vedendo anche magari un po' su internet mi sono convinto e quindi sono venuto. Filippo invece gioca come opposto e arriva da Ferrara. Perdo sulle tecniche quindi alla fine spero di migliorarle in questo camp, c'è molto lavoro da fare quindi spero di migliorarmi in tutti i punti. Insomma non solo sport, il big camp si conferma anche un ottimo traino per il turismo sul monte di Trento che nella stagione estiva sta ancora cercando di rilanciarsi e che nelle settimane di camp si colora dell'entusiasmo e della passione di questi giovani aspiranti kaziski.